ciao faccio questo video proprio per intanto ringraziarti di aver condiviso con me la magia di ieri sera è stato un momento veramente molto bello e molto magico mi avete scritto in tantissimi sia nel flusso della diretta che in privato con tutti i mezzi di comunicazione a vostra disposizione bene intanto grazie per i bellissimi messaggi perché mi avete raccontato ciò che è accaduto in voi la trasformazione che è venuta questa notte è stata veramente potentissima e ho visto che avete anche risposto in molti al lavoro proprio di questa mattina e quindi ho piacere di condividere la mia esperienza in merito al lavoro di questa mattina questa mattina quando mi sono connessa con la luna e ho detto sono pronta cos'è accaduto intanto ho sentito una grandissima espansione del cuore poi è arrivata la luna ed è entrata proprio dentro di me dal chakra della torona e ha percorso tutto il mio canale pranico andando a lavorare sui vari punti che possiamo ritenere connessi ai chakra e ho sentito un lavoro molto potente poi è arrivata l'anima della luna che ha riempito tutto il mio corpo era una figura bellissima che ha riempito tutto il mio corpo con una caraffa d'oro di luce dorata e poi è successa una magia sono apparsi il mio maschile il mio femminile abbracciati come se fossero un uomo ed una donna si sono abbracciati baciati e i loro chakra si sono fusi insieme ho sentito una pace immensa meravigliosa e ho sentito che tantissime situazioni sospese ferite eccetera eccetera si sono armonizzate quindi ti ringrazio di aver condiviso questo questa possiamo dire questa esperienza di trasformazione di guarigione di alcune ferite situazioni che fanno parte dell'essere umano e ti suggerisco proprio nei prossimi giorni di continuare a rimanere connesso alla luna di continuare a chiedere il suo supporto per perché questa questo lavoro possa continuare possa concludersi e completarsi il 27 durante l'eclissi in cui saremo qui a malaga per fare questi tre giorni di luce in cui chissà che cosa accadrà sono veramente molto felice e curiosa di vedere quello che gli esseri di luce ci porteranno a compiere in questi giorni magici intanto continuate a scrivermi in tantissimi che volete far parte di questi tre giorni di luce e sono veramente felice che abbiate sentito così forte questo richiamo di grande trasformazione vi auguro una giornata magica e vi saluto con il rumore del mare buonissima giornata ciao ciao